Buongiorno e ben trovati al primo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, lunedì 20 novembre. Un po' su tutti i giornali ritroviamo la notizia dell'arresto di Filippo Turetta, il giovane ritenuto l'assassino della sua ex fidanzatina Giulia. Ieri è stato arrestato in Germania, ormai senza soldi e senza benzina e non gli è rimasto che arrendersi alla polizia. Guardo anche puntato sulla guerra in Medio Oriente con le ultime notizie che parlano di un imminente rilascio di un numero consistente di ostaggi. Poi ovviamente un spazio anche allo sport con la finale di tennis Djokovic-Sinner e la partita di questa sera della Nazionale di Calcio che dovrà staccare il pass per Euro 2024. E allora andiamo subito sul Corriere della Sera che titola La fuga è finita, arrestato Filippo. Era in Germania, fermo in autostrada, senza soldi e benzina, le ultime terribili ore di Giulia. Anche i genitori dell'assassino alla fiaccolata, in programma ieri sera, hanno partecipato circa 3.000 persone. Il padre sembrava il figlio perfetto, il papà della vittima ragazze denunciate. Leggiamo allora il richiamo. Era fermo al buio Filippo, l'ex e assassino di Giulia. Un'automobilista lo ha segnalato alla polizia tedesca lungo l'autostrada del Land della Sassonia a Nalt. Finiti i soldi, finita la benzina, si è fatto arrestare senza dire nulla. Suo padre in Italia, sotto shock, sembrava il figlio perfetto, sarà presto estradato in Italia. Pare che abbia anche accettato l'estradizione senza opporre resistenza. E vedete a centropagina anche la fotografia della fiaccolata di ieri sera con la sorella della vittima che dice non chiamateli più mostri, sono figli del patriarcato. E ancora vedete poi uno spazio riferito allo sport, Sinner da applausi, ma il re è Djokovic, sconfitto dal numero uno del mondo al settimo titolo da maestro. E la vicenda della crisi e della guerra in Israele e Palestina. Ostaggi, l'accordo ora più vicino, dirottata una nave, l'annuncio da fonti in Egitto. Si aprono spiragli sulla liberazione degli ostaggi a Gaza. Un accordo sembra più vicino. Continuano intanto i raid israeliani nella striscia. Gli auti dirottano una nave del Mar Rosso vicino allo Yemen. E poi c'è una notizia che riguarda gli universitari. Per il 46% israele sono come i nazisti. E passiamo alla Repubblica che ovviamente titola sul femminicidio il killer aveva un piano. La fuga di Turetta finisce in Germania. Senza soldi e benzina si arrende alla polizia. Accettata l'estradizione. Giulia uccisa con venti coltellate. Gli inquirenti lavorano sulla premeditazione. Usati scotch, sacchi e contanti. Ha percorso oltre mille chilometri. Poi, sfinito e senza soldi e benzina, ha fermato la sua grande punto in una corsia d'emergenza dell'autostrada A9 nei pressi di Bar Duremberg in Germania, dove è stato arrestato. E finita così la fuga di Filippo Turetta, il 22enne, ha già detto sì alle estradizioni in Italia, dove dovrà rispondere dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Anche la famiglia ha preso le distanze dal ragazzo. Abbracciarlo sarà difficile, ha detto il padre. Il governo pensa di introdurre un'ora di educazione sentimentale nelle superiori e Meloni rivendica di aver agito con tempestività. Infatti il ministro Valditara dice un'ora alle superiori per educare alle relazioni. E l'analisi di Arianna Farinelli, tutti vittime del patriarcato. Ma c'è anche la guerra in Medio Oriente, il video che accusa Hamas, gli ostaggi, nell'ospedale di Al-Shifa. E ancora dei ultimi tre titoli svolte in Argentina. L'ultrapopulista Milley e il nuovo presidente, l'ultraliberale. Soprattutto poi il Napoleone di Scott rende ridicola la rivoluzione. Uno sguardo alla partita di tennis di ieri. Sinner non ce la fa e Djokovic il re delle ATP Finals. E passiamo alla stampa. Il quotidiano di Torino che titola Ragazze, denunciate per salvarvi. Così parla la famiglia della vittima di Giulia. Finisce in Germania la fuga di Filippo. La ministra Roccella. La rivoluzione parta dagli uomini. Giulia assassinata con venti coltellate. Ha lottato per difendersi. L'appello del padre e della sorella appunto di denunciare. E poi ancora la pace è possibile. Si parla di guerra in Medio Oriente. Per Israele e Palestina la lezione della storia, commenta Lucia Annunziata. E ancora c'è un'intervista a Keret, folle, scegliere quali vittime piangere. E si parla anche di geopolitica con Putin riammesso al G20 senza i veti dell'Europa. Mentre a centropagina vedete la fotografia di Djokovic che dice grazie Torino. Yannick Sinner ha battuto in finale davanti a un pubblico meraviglioso. E ancora passiamo al Sole 24 Ore. Il giornale di Confindustria che si occupa di temi di economia. Il lunedì è un giornale dedicato agli approfondimenti e alle inchieste. Principi ISG e sostenibilità scatta la corsa dei bilanci green. Obbligo a tappe dal 2024 al 2026. Il numero dei report è ancora ridotto ma è raddoppiato in tre anni. Il 46% da piccole e medie imprese. Ma il titolo principale è dedicato alla delega fiscale. Contenzioso mediazione in archivio. Nel 2022 sono saltate 67.721 mediazioni fisco contribuente su 93.000 istanze. Al momento il governo ha potenziato l'istituto della conciliazione in giudizio che arriva anche per l'elite in Cassazione. Ma l'istituto nella fase di merito non ha dato risultati. Nel 2022 754 le conciliazioni su 193.000 definizioni dell'anno. Ancora Lussana della CBGCD. MEF verso il bando per il concorso di giudice tributario. Poi si parla anche di imprese e cooperazione con il fisco estesa ai contribuenti sotto i 750 milioni. Si parla di lavoro. Food delivery. Trattative aperte per il contratto con tutti i sindacati. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Giornale di Puglia e Basilicata. Il titolo di una falsa apertura dedicata allo sport. Perfezione Djokovic. Sinner sconfitto con un W63. Calcio. Oggi azzurri in campo. Ma il titolo principale dedicato alla tragedia di Giulia e quelle violenze infinite. Arrestato l'ex fidanzato in Puglia. Intanto il ricordo di Federica De Luca. E ancora le cronache della Gazzetta Banca Cooperativa di Conversano. L'ex direttore generale Venerito nel mirino della procura di Bari. La finanza così l'ex manager usava la banca. Da prete a vescovo ortodosso abusato quando ero ragazzo scomunicato dalla chiesa. Dice messa in palestra. Un caso che riguarda Mottola. Grillini tiepidi sulla forgia. Per Bari decide l'alleanza. Si parla di elezioni amministrative 2024. Ci spostiamo sull'altro quotidiano di Puglia e Basilicata. In particolare sull'edicola del Sud. Questa è l'edizione di Bari che dice medici aggrediti. La regione ci aiuti. Si chiede di dar seguito ad un protocollo d'intesa già firmato prossimo incontro il 4 dicembre. Leggiamo. Non esistono oasi felici tra le strutture ospedaliere della Puglia e Basilicata per quanto riguarda le aggressioni ai medici e al personale infermeristico. Continua l'emergenza dai reparti degli ospedali della Puglia che l'anno scorso condivideva con la Sicilia il triste primato di regione con il maggior numero di aggressioni ai danni del personale medico infermioristico e ora chiedono l'intervento della regione. Ma il titolo principale è dedicato a tempi stretti, distanze lunghe. Oggi il tavolo del centro-sinistra presente anche la forgia. Italia Viva lo sosterremo. Si parla della elezione in programma appunto a Bari e che coinvolgeranno la città capoluogo di regione che si ritrova senza la possibilità di avere il terzo mandato per il sindaco uscente, il sindaco in carica, De Caro che appunto non può candidarsi e quindi il problema sia del centro-sinistra e del centro-destra è di trovare candidati capaci di raccoglierne l'eredità. Intanto c'è stata anche la manifestazione sulle scale della chiesa del Redentore, il no della piazza alla violenza. A sorpresa la denuncia di una donna picchiata dal marito. E passiamo all'arresto del Carlino, il giornale del gruppo del quotidiano nazionale che nella sua edizione nazionale scrive che sia l'ultima, questa è la fotografia dei genitori della sorella, del padre e della sorella della vittima Giulia, intanto la fuga di Filippo Turetta si ferma in Germania, arrestato. Il papà di Giulia, ragazze denunciate da questa vicenda deve nascere qualcosa, la sorella Elena, mai zitta e attacca Salvini. La giovane uccisa avrà la laurea in migliaia, la fiaccolata anche il padre dell'assassino e nella sua editoriale Agnese Pini scrive oltre le parole mettiamoci anche la faccia per Giulia e le altre, sabato l'iniziativa del quotidiano. E passiamo ai giornali del gruppo della provincia, cominciando con Sondrio. Mario era un po' confuso per noi, uno strazio, cinque giorni dopo la scomparsa parla Serena Fait, la moglie di Mario Conti, l'alpinista di 79 anni sparito nel nulla a Mossini, mentre da Colico si vede questa fotografia dell'incendio in ditta, nube di fumo sulla valle. Ma il titolo principale dedicato alla morte di Nicole Delcurto, di 23 anni, investita da un pirata a Bali, va operata, servono soldi, quindi non è morta. Nicole Delcurto, 23 anni, di Chiavenna, ha riportato lesioni importanti. Le notizie arrivano con il contagocce frammentarie, ma la situazione della giovane Nicole Delcurto, ieri, è rimbalzata in un centinaio di messaggi WhatsApp che chiedevano un gesto di solidarietà. È complicata la situazione della ragazza Chiavennesca, di 23 anni, ricoverata in ospedale nell'isola di Bali, dopo essere stata investita da un'auto pirata nella notte fra sabato e domenica. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni importanti, va operata d'urgenza, ma per farlo servono soldi perché l'ospedale è privato e lavora soltanto se si paga in anticipo. Nell'isola indonesiana la ragazza si era trasferita per una vacanza, poi prolungatasi. La giovane, che dopo aver concluso le superiori all'istituto alberghiero Crotto Caruga ha lavorato in locali della città, è stata coinvolta in un incidente stradale dalla dinamica non ancora chiarissima. Probabilmente era in motorino ed è stata investita da un'auto che non si è fermata. Caduta a terra, Nicole ci è rimasta per un tempo indefinito prima che un passante la soccorresse. Poi via via il resto dei particolari. E ci spostiamo all'Ecco, sempre con la provincia. Doppio titolo, incendio alla Seval, colpa di una batteria. Fiamme anche a Dervio, brucia un capannone. Ma il titolo principale è Mariolino. Parla alla moglie. Uno strazio non trovarlo. Serena Faita attende a Conti e a casa martedì sera, ma non è mai tornato. Notte e giorno penso a cosa possa essere successo. Ne parlo con gli amici, faccio ipotesi di ogni tipo, ma alla fine non so. Non mi capacito. Lui, Mariolino, era un po' confuso ultimamente, ma il giro che era solito fare qui a Mossini lo conosceva a menadito e mai e poi mai sarebbe uscito dai sentieri. Assolutamente. A dirlo è Serena Faita, guidalpina e emerita della Lombardia, moglie di Mariolino Conti, 79 anni, di Lecoma, residente a Mossini, dove aveva messo su casa proprio con Serena. Casa nella quale martedì pomeriggio non è tornato e dall'ora di lui non si hanno più notizie. Era solito uscire due o tre volte alla settimana, racconta la moglie Serena a fare un giro, di solito di un paio d'ore, qui in zona Mossini, tranquillo. Era un classico per lui, una cosa del tutto normale. Martedì invece ho visto che non rientrava e mi sono preoccupata. Non è appena, non appena è calato il buio e Serena si accorta che il marito non era ancora rincasato e è uscita lungo i sentieri della zona dove di solito andava sempre, ma non lo ha trovato. E passiamo alla provincia di Como. Doppio titolo anche qui con due fotografie. Chef chiude trattoria, poi un malore lo stronca e è accaduto in Val d'Intelvi. Cade dalla bicicletta, è morto dopo tre giorni, ha combattuto per tre giorni con tutte le sue forze, ma alla fine si è dovuto arrendere. Non c'è stato niente da fare per Eugenio Bernasconi, di 74 anni, di Cassina Rizzardi. Mos morto sabato in ospedale dopo una brutta caduta dalla bicicletta. Ma anche qui il titolo principale è un altro. Como, bus turistici in città e caos anche a novembre. Banditi da Piazza Roma faticano a trovare posto nelle altre aree. I bus turistici, anche a novembre, continuano a girare in vano attorno alla città di Como. Nei nuovi stalli di sosta per il carico scarico in tangenziale, gli autisti stranieri spesso si riposano per i 45 minuti obbligatori. Allo stadio i pullman non possono più sostare. Prima intasavano l'area e l'amministrazione comunale a giugno ha deciso di disegnare delle strisce blu per le auto e spostare i bus turistici fuori dal centro. Il Comune ha già bandito i bus da Piazza Roma, una zona troppo centrale per potersi far carico anche del traffico dei mezzi turistici. In teoria i pullman ora dovrebbero uscire dalla Convalle e andare a Mugeot. In pochi però lo fanno perché i tour hanno sempre i tempi contingentati. E passiamo all'eco di Bergamo. In questo caso il titolo è sempre dalla parte della vita, ma a Bergamo ci escludono. Il CAV si preferisce far abortire in 15 anni hanno indicato solo una decina di casi. Da 15 anni siamo presenti all'ospedale Papa Giovanni e al consultorio di Borgo Palazzo, ma le donne che ci hanno inviato saranno al massimo una decina. Si preferisce far abortire piuttosto che trasmettere un messaggio di ascolto e supporto. Anna Rava Daini, la presidente del centro di aiuto alla vita di Bergamo, da 40 anni al fianco delle donne in difficoltà di fronte alla nascita di un bambino, ribadisce lo sfogo di sabato al convegno del forum bergamasco delle associazioni familiari. Si parla di buone prassi per invertire la natalità a zero, ma poi noi, che siamo pronti ad ascoltare le donne che si presentano per abortire, non per costringerle a cambiare idea, ma per dire loro che ci siamo col sostegno economico e psicologico, veniamo ostacolate nel nostro volontariato ed escluse. Tutti sanno della nostra presenza, ma nessuno collabora a questa la sua denuncia. Intanto, traffico in tilt fra mercatini e letterine, il centro fa il pieno. E passiamo al messaggero, il giornale di Roma, il giornale della capitale. Turetta, bloccato in Germania. Il giovane ricercato per l'uccisione di Giulia era fermo in autostrada, senza benzina. Il padre del ragazzo, speravo, in un altro finale. L'estradizione entro pochi giorni. E poi c'è uno sguardo anche alle elezioni in Argentina. Milei è il nuovo presidente. L'ultraliberale ha sconfitto il peronista. Massa riconosce, ora tocca a lui. Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. Per alcuni era un outsider eccentrico, destinato all'ascese e al declino in poche settimane. Per altri, una novità in un panorama politico troppo ingessato. Gli argentini, chiamati alle urne per il ballottaggio, hanno deciso che sarà lui, dal dicembre, il nuovo presidente della Repubblica. Sconfitto il candidato peronista Sergio Massa. E poi la guerra a Gaza. Si sugli ostaggi. Ospedale di Al-Shifa. Verso l'evacuazione. Lo scambio prende forma. Il rilascio di 87 ostaggi detenuti a Gaza a fronte di cinque giorni di cessate il fuoco. Israele e Hamas sarebbero sempre più vicini ad un accordo mediato dagli Stati Uniti che prevede la liberazione di decine di donne, 50, bambini e stranieri. La tregua nei prossimi giorni. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità prepara l'evacuazione dell'ospedale di Al-Shifa. Ancora due titoli. Il trionfo di Djokovic. Sinner cede tra gli applausi. ATP Finals a Torino. Il serbo vince il trofeo per la settima volta. La febbre del gioco. Boom dell'online. In arrivo la riforma. Il settore vale oltre il 7% del PIL tra le misure sulla ludopatia, limiti alle puntate e call center. Le cifre sono da capogiro. Nel 2022 gli italiani hanno speso 136 miliardi di euro nel gioco d'azzardo. Slot machine, videolotteri, gratte e vinci, scommesse sportive, lotto, poker. E negli ultimi anni c'è stato un vero e proprio boom delle puntate online. Sono stati spesi più di 73 miliardi, circa 1.600 euro al mese, facendo una media tra i soli giocatori. Ora però in arrivo la riforma del governo tra le misure sulla ludopatia, limiti alle puntate, call center e blacklist. Le indagini in aspromonte. Dottoressa uccisa. Il marito testimone. Non ho visto il killer. E poi c'è l'impennata dei prezzi. Anche del 22% teleschi pass sulla neve. Sarà il Natale dei rincari. E ci spostiamo sul mattino, il giornale di Napoli e della Campania. Qui il titolo è dedicato agli applausi per Sinner e ora tocca all'Italia. Dopo uno splendido torneo, Yannick battuto nella finale ATP da un immenso Djokovic. Azzurri stasera con l'Ucraina un punto per guadagnarsi gli europei. Ragazze denunciate, però è il titolo principale. Filippo Turretta arrestato in Germania all'appello del papà di Giulia dopo il delitto della figlia. Meloni avanti contro la barbarie. E annuncia una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. E poi un'altra notizia di cronaca che viene da Napoli. Anziano ucciso in casa. 81 anni accoltellato al volto e al collo. La pista della rapina. La guerra in Medio Oriente. La trattativa Gaza imminente. La liberazione di 50 ostaggi. E sarebbe davvero una buona notizia. Napoli. Prolusione di prodi agli studi storici. L'immobilismo dell'Europa senza una politica comune. Una riflessione sulla situazione attuale. E chiudiamo con il quotidiano del sud. Dell'altra voce dei ventenni. Il giornale diretto da Roberto Napoletano. Che nel suo editoriale di prima pagina titola Il ricatto tedesco della gabbia dei decimali. Entro Natale l'Italia si gioca tutto per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza. E ribaltare il nuovo patto europeo. Tutta la logica del nuovo patto voluto dalla Germania è sbagliata. E riproduce i principi di zoppia che denunciò in tempi lontanissimi Carlo Azzeglio Ciampi. Sostenendo che si tagliava la gamba della crescita a favore della stabilità. Oggi sarebbe peggio perché si priverebbe l'Europa anche per il futuro di un'unica politica economica e di conseguenza di una prospettiva di crescita da player globale all'attezza degli Stati Uniti e Cina. A marzo potremo essere i primi in investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma dobbiamo fare subito le riforme per avere oggi un surplus di credibilità che ci aiuta a cambiare il quadro delle regole comuni europee. E ancora la guerra, appelli e raid Medio Oriente di disperazione. Attilio Geroni parla che nel frattempo il mondo distoglie lo sguardo dal conflitto tra Russia e Ucraina. Ed è questa una riflessione importante. Leggiamo. La barbara incursione di Hamas del 7 ottobre, un attacco senza precedenti al cuore dello Stato di Israele, sembra più lontana di un mese e mezzo. Sembra più lontana agli occhi dell'opinione pubblica occidentale perché nel frattempo si contano i morti e la distruzione tra civili di Gaza. Una vera e propria crisi umanitaria dove gli aiuti sono difficili se non impossibili nonostante i ripetuti appelli a Israele della diplomazia internazionale e delle vane risoluzioni approvate dall'ONU. È un Medio Oriente di esasperazione e disperazione quello che si dischiude davanti ai nostri occhi. Gli ultimi titoli. Santa Lucia lavora per i più piccoli, strade e volontari. Si parla di inclusione. Donne e violenza, ciò che ferisce prima del femminicidio è una riflessione di Lidia Marassi. E poi si parla anche di tendenze. Black o green? Lo shopping piace al sud. Leggiamo. Il Black Friday, il Cyber Monday, sono tra i momenti più attesi dell'anno da chi desidera fare acquisti online. Un modo, da un lato, per avviare le campagne di marketing per il periodo natalizio da parte dei commercianti e dall'altro un'occasione ghiotta per accaparrarsi qualche articolo che, fortemente scontato, sarebbe inavvicinabile. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questo appuntamento con la Rassegna Stampa. Appuntamento che torna domani, stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi. Grazie a tutti.